Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpal tra oggi venerdì e domani sabato un po' di instabilità con qualche precipitazione sul centro ponente domenica soleggiato su tutta la regione e temperature in aumento il dettaglio oggi venerdì 28 luglio sereno poco nuvoloso sui settori di centro e di ponente nuvolosità in aumento dal pomeriggio con possibili deboli pioggia associate nubi irregolari altrove venti prevalentemente deboli meridionali con rinforzi mare poco mosso ovunque temperature massime in lieve calo lungo la costa tra 26 e 28 gradi nelle zone interne tra 25 e 29 gradi domani sabato 29 luglio nubi diffusa tratti irregolari sul centro e sul ponente con possibili deboli precipitazioni poco nuvoloso levante venti deboli o moderati meridionali mare poco mosso ovunque temperature in lieve aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi minimi lungo la costa tra 21 e 23 gradi nelle zone interne tra 15 e 18 gradi massime ovunque comprese tra 26 e 29 gradi dopo domani domenica 30 luglio giornata in prevalenza soleggiata con passaggi nuvolosi alternati a schiarite 20 di direzione variabile o in regime di brezza mare generalmente mosso temperature in ulteriore aumento in particolare nei valori massimi minimi lungo la costa tra 21 e 23 gradi nelle zone interne tra 15 e 18 gradi massime lungo la costa tra 28 e 30 gradi nelle zone interne tra 28 e 31 gradi è tutto seguiti ragionamenti su arpal.ligure.it seguendo i social d'agenzia compreso il nuovo canale telegram ricordate di scaricare l'app meteo 3r disponibile su google play apple store buon fine settimana a tutti